Salve! Io sono Troy McClure. No, non è vero. Sono il proprietario di questo canale, purtroppo. Qualche giorno fa, il buon 1092NK mi ha lasciato un commento su un video del 14 ottobre 2016. Qual è la migliore edizione di D&D e perché Pathfinder? Così l'ho riguardato e ho detto... Cazzo, in effetti hai ragione, signor 1092NK. Nel 2020 D&D è stato tradotto al D&D 5. E quindi ho detto, perché non rifare questo video? Ora ho la webcam, ho la fibra, lo faccio così, mi vedete così pieno di rumore, di sfocature. Perché no? Quindi partiamo. Questa è una sorta di video aggiornamento. Allora, nel video vi paravo di Labyrinth Lord che nel frattempo ho comprato. Costa pochissimo, quindi questo lo comprate assolutamente, ma si trova solo online. Se volete una variante che invece si trova più semplicemente, All School Essential, Need Games. Nicola De Gobbis, se mi stai seguendo, mandami la versione bellissima con la scatola che sempre l'ho voluta. Ma purtroppo costava un sacco di soldi. Questa edizione è da battaglia, come vedete dallo scotch. E questa è l'unica avventura che c'è al momento ufficiale per All School Essential, ma questo non è un grande problema. Cosa sono questi giochi? Sono dei giochi OSR. Vuol dire che si basano sul D&D originale. Scatola rossa, scatola blu. BX, in questo caso. Specifico. Bellissimo. Quindi che cosa fate con questa roba qui? Allora, giocate delle avventure principalmente di esplorazione. Esplorazione di dungeon o di territori aperti, vasti. Cercate oggetti sempre più potenti, eccetera, eccetera. Una caratteristica importante è che sono dei giochi molto semplici. Molto, molto semplici. Pochissime regole e vi obbligano un po' a improvvisare. Sia che voi siete il master, sia che voi siete i giocatori. Quindi è adatto per tutti i gruppi, tutti i livelli, perché è davvero semplice. E super mortale. Assolutamente, incredibilmente mortale. Ma soprattutto ci potete giocare tutto quello che è uscito per D&D BX, che è una quantità di giochi spropositata. E questi giochi, cioè già Labyrinth Lord e Old School Essential, potete intercambiarli come volete. Un materiale di uno lo usate nell'altro, senza nessun problema, all'infinito. E costano pochissimo. Old School Essential costa 35 euro, Labyrinth Lord probabilmente 10. Compratelo immediatamente e provatelo, anche solo per il gusto di provarlo. Perché è davvero semplice. Quindi questo è strano che nel 2020 vi propongo un gioco del 1980, ma è quello che succede. Secondo me sono assolutamente da giocare in questo momento, perché sta funzionando abbastanza questa cosa dell'OSR in Italia. Ma non è la miglior versione di D&D. Perché la miglior versione di D&D, come poi vi dicevo là nel video di 4 anni fa... video, foto su Instagram. D&D 5, l'hanno tradotto in italiano finalmente. Che dire, ha un piccolo problema. Che per giocare avete bisogno di questo. E di questi due. Quindi master, giocatore, mostri. Costano 150 euro in totale. Un po' tantino. Le avventure... Eh... Finché non mettono Curse of Strada in italiano... Eh... Non sono brutte, ce ne sono di decenti, ma per questo secondo me è molto semplice crearsi le avventure proprie, più semplice gestire le cose, più bilanciato il tutto. Perché non vi consiglio più Pathfinder come edizione principale? Perché è vecchio. Cioè, comunque sia si basa su un gioco di 20 anni fa. Certo, vi ho detto sull'Essential degli anni 80, però è semplice almeno. Pathfinder al momento non va bene, perché è un po' pesantone. Come anche D&D 3.5. È un po' pesante di regole. Uno si mette al tavolo, non hai più tempo. Poi sono diventato vecchio, evidentemente. Ma comunque sia, io ce l'ho. Ho questo qua, che è Pathfinder 2. L'ho comprato, seconda edizione. Non l'ho ancora letto, ma è... Molto combat-oriented, da quello che ho capito. Non lo so, per ora non mi convince tanto. La cosa buona di questo... Ma che bello, la copertina dietro, bellissima. Che costa 60 euro. E con quello dei mostri arrivate a 100, e più o meno, e siete a posto. Non avete bisogno di nient'altro, perché quello del master è già contenuto all'interno. Non lo so, non so cosa dirvi. Io per ora non posso parlarvene. Magari, se qualcuno dovesse interessare, in qualche altro video ve ne parlerò. Anzi, ditemi. Voglio saperne di più sull'Essential. Ce ne parli meglio, e va bene. A parte che su YouTube esistono già altri due canali che vi consiglio. Faccio una roba che faceva io, Tobi, nel 1200. Vi consiglio due canali, che poi, voglio dire, li conoscete sicuramente. Uno è l'altro del Dungeon Master di Steph Kirian, e l'altro è il canale di 20 facce, che parlano sempre di giochi di ruolo. Top. Ma nessuno di questi è il gioco, secondo me, migliore di D&D. Cioè, la migliore edizione di D&D non è nessuno di questi. Questi sono quelli che vi consiglio adesso. Cioè, giocate a questi due, secondo me. La migliore edizione di D&D è questa. Tredicesima era. Ne parleremo magari un'altra volta. Richiedetemelo se lo volete. Secondo me questo è il miglior di 20 system mai fatto. Incredibile. Bellissimo. Ci sono altri giochi di ruolo che vi potrei consigliare, ma che non sono D&D. Cioè, Vorhammer quarta edizione, ad esempio, probabilmente è il miglior gioco mai fatto. Ma non fa parte di questo video. Noi non ci rivedremo mai più, perché questo è l'ultimo video che fa. Perché tanto lo sapete. Però se vi fa piacere ditemelo che magari... Ma poi sto parlando che non c'è nessuno che guarda questo video. Quindi niente, mi saluto da solo. Ciao.